Do adesso la parola all'amico Antonio Galletti, che è il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, che ha gemellato questo evento con attività formativa e molto attento e sensibile alla formazione degli Avvocati e questo ti fa onore e quindi ha accolto con piacere questo invito per tenere una relazione, essendo lui un Avvocato amministrativista, sul pubblico impiego non privatizzato. Noi abbiamo parlato sino adesso dell'impiego pubblico privatizzato, però ci sono delle categorie che non sono state privatizzate e quindi non vanno dinanzi al giudice ordinario del lavoro ma ancora davanti al giudice amministrativo, TAR e Consiglio di Stato, oltre a militari, polizia, prefetti, diplomatici, gli stessi magistrati e quindi il contenzioso anche in queste carriere è esploso, si pensa spesso che in alcune categorie non ci sia contenzioso e invece provate a dare una sanzione disciplinare anche alla più blanda come un risibile richiamo verbale o scritto, ma te lo portano in adunanza plenaria e quindi vediamo il punto della situazione sulla litigiosità nelle carriere non privatizzate. Prego Antonio. Grazie innanzitutto per l'invito, grazie alla scuola dell'amministrazione per aver organizzato questo evento importante con l'amico Vito Tenore. Grazie soprattutto per avermi distolto dal dibattito sulla prescrizione e sullo spazza corrotti che in questi giorni ci persegui, tant'è che sono stato un po' al telefonino prima durante gli interventi, non per cortesia ma perché con la sentenza di questa mattina vari giornalisti chiamano per sapere cosa ne pensa l'avvocatura e tutti commentano una sentenza della Corte che sarà solo annunciata e ancora non c'è la motivazione. Quindi domani troveremo sfilze di commenti e di valutazioni da parte di chi ancora non ha potuto leggere la sentenza perché oramai come sapete la Corte Costituzionale sulle questioni più importanti annuncia la decisione con comunicato stampa il giorno stesso o il giorno dopo la discussione ma poi la motivazione della sentenza viene depositata qualche giorno più tardi. Ringrazio anche Vito per questi due volumi che vengono presentati oggi e che costituiscono una sistemazione dogmatica complessiva sia del pubblico impiego privatizzato e sia del sistema del lavoro pubblico. Secondo me se ne sente l'esigenza perché oramai con la fretta e con la necessità nel scrivere gli atti quotidianamente di trovare la sentenza giusta da indicare nel momento giusto si finisce per avere una visione di insieme che è sempre più difficile non solo avere ma avere anche il tempo di codificare in qualche modo di cercare di ricostruire dalla giurisprudenza e dalle fonti del diritto in continua evoluzione. Quello del pubblico impiego è un settore che oggettivamente viene costantemente riformato. Io l'ho vissuto diciamo da professionista quindi scontrandomi spesso con l'Avvocatore dello Stato con l'amica Gabriella Palmieri, i colleghi dell'Avvocatura per quanto riguarda il pubblico impiego dinanzi al giudice amministrativo ma l'ho vissuto più recentemente almeno dal 2012 a oggi e dal 2019 come Presidente per l'attività consigliare. L'Ordine degli Avvocati di Roma è un ente pubblico non economico quindi a tutti in piccolo diciamo perché abbiamo una quarantina di dipendenti ma ha tutti i pregi e i difetti delle strutture pubblicistiche. Devo dire che questa esperienza di amministrazione attiva e vissuta mi ha anche cambiato un po' la prospettiva nel senso che vedendo all'interno come funziona non dico che sono diventato più benevolo nei ricorsi quando mi trovo dall'altra parte però sicuramente riesco a comprendere alcune difficoltà che magari prima mi sembravano soltanto illegittimità sicché semplicite e quindi invece mi rendo conto di quello che c'è dietro e questo credo che sia un'esperienza importante cioè quella di poter vedere anche dall'altra parte quello che viene detto. Il convegno di oggi lo dimostra opportunamente sono stati invitati a parlare sia magistrati della Corte di Cassazione magistrati della Corte dei Conti sia l'Avvocatore dello Stato e quindi la difesa pubblica erariale e sia Avvocati del Foro Libero e il mondo dell'Accademia e questo è assolutamente utile per avere una visione complessiva dei fenomeni senza tralasciare poi la testimonianza all'interno della nostra dirigente la dottoressa Bono che in realtà ha aggiunto elementi ulteriori proprio dall'angolo della sua visuale diretta delle problematiche che affliggono almeno nei due settori che lei ha specificato il mondo dell'impiego pubblico. Per quanto riguarda il tema che mi è stato assegnato c'è questa competenza che qualcuno definirebbe residua del TAR e del Consiglio di Stato in maniera di impiego pubblico ma se che poi andiamo a vedere così residua non è pensiamo a tutto il mondo delle forze di polizia che è un pubblico impiego anche numericamente molto importante e pensiamo poi a alcuni settori importanti del pubblico impiego i dipendenti delle autoriti, gli stessi magistrati ordinari e onorari entrambi lì addirittura la competenza del TAR di Roma quindi non solo del giudice amministrativo ma anche territorialmente accentrata su un unico, almeno in primo grado sul giudice amministrativo romano e pensiamo anche ai servizi di intelligenza e quindi a tutti i settori nevralgici che il legislatore forse pensando di attribuirle a una particolare cura del giudice amministrativo forse ritenendo che il giudice amministrativo abbia una maggiore sensibilità e dimestichezza con l'interesse pubblico generale e quindi in qualche modo ha preferito riservare a questa giurisdizione piuttosto che devolverli anche questo tipo di rapporti di lavoro alla giurisdizione del giudice ordinario e in effetti devo dire per converso che quando mi è capitato di difendere questioni di pubblico impiego davanti al giudice ordinario con la mentalità da amministrativista ho avuto le difficoltà sia processuali perché sicuramente il rito del lavoro è un rito particolare e sia a volte nel far comprendere ai giudici del lavoro di primo grado soprattutto il meccanismo dell'illegittimità della catena procedimentale che magari per noi amministrativisti sembra più scontato ma così non è ora il Tribunale di Roma ha la fortuna per esempio di avere un pool tra virgolette di magistrati che si sono specializzati su questo settore del pubblico impiego anche all'interno della sezione lavoro e quindi ormai hanno acquisito una competenza però soprattutto all'inizio e soprattutto in tribunali che non si possono permettere numericamente queste specializzazioni il problema sussisteva e sussiste ancora oggi diciamo con la riforma si è creata una strana figura di avvocato per cui probabilmente il sistema migliore per difendere oggi un pubblico impiegato davanti al giudice ordinario è quello di affiancare un amministrativista e un lavorista uno sicuramente per le competenze processuali e l'altro magari per la visione della tutela dell'illegittimità quindi dell'interesse legittimo e del procedimento amministrativo e dell'attività funzionalizzata per quanto riguarda la giurisprudenza in questo settore devo dire che i giudici amministrativi sono stati particolarmente sensibili oggi nella giudizione esclusiva nascono le sentenze di accertamento non soltanto di annullamento c'è anche una particolare attenzione al profilo del risarcimento del danno certo se penso a alcune casistiche i casi di condanna dell'amministrazione nel pubblico impiego che è rimasto sotto il controllo del giudice amministrativo sono molto minori rispetto a quelli del giudice ordinario penso al caso per esempio del mobbing dove è molto più facile incappare reggendo la giurisprudenza anche statisticamente in sentenza di condanna emesse dal giudice ordinario piuttosto che in sentenza di condanna emesse dai giudici amministrativi che sono molto ridotte e si contano forse veramente non dico su un dito di una mano ma comunque sono in numero molto ridotto e questo è sicuramente un segnale un'apertura che secondo me un giudice amministrativo dovrebbe fare maggiore rispetto alle stanze dei pubblici dipendenti che si rivolgono con fiducia al plesso amministrativo perché se da un lato c'è una esigenza di amministrazione della giustizia che è quella di non ingolfare i giudici amministrativi con una qualità enorme e importante di ricorsi d'altra parte però non si può lasciare senza tutela una particolare categoria di soggetti che invece probabilmente se fossero andati anche loro dinanzi al giudice ordinario insegnatamente al giudice del lavoro avrebbero ottenuto una maggiore tutela Chiudo, sentivo parlare dei problemi della dirigenza pubblica e chiudo dicendo che forse da questo punto di vista qualcosa cambierà perché oramai da quello che mi costa almeno nel mondo della giustizia i dirigenti sono così pochi e sono rimaste delle figure quasi mitologiche per cui probabilmente questi problemi sono problemi a esaurimento pure loro così come i dirigenti nel Tribunale di Roma abbiamo una scopertura nei ruoli apicali che raggiunge il 65% e quindi su una scopertura totale del 35% rispetto all'organico su 1.200 dipendenti ce ne sono poco meno di 800 quindi per quanto riguarda le funzioni direttive questa scopertura è veramente significativa direi di lasciare la chiusura a Vito visto che tra l'altro è l'organizzatore di tutto questo non vorrei lasciarti nella sala vuota e quindi come ti ho promesso poco fa diligentemente mi autotolgo la parola così sei impedito anche di colpirmi col martelletto vista la distanza io sono più a rischio grazie anche per la sintesi dote sempre apprezzata negli avvocati chiudiamo questa nostra giornata con la mia relazione ecco che è dedicata a un tema a me caro quello della responsabilità disciplinare sarò breve, succinto e compendioso per cui resistete solo pochi minuti come ha detto poc'anzi l'amico e collega Luigi Caso il dipendente pubblico è esposto a parecchie responsabilità ben cinque civile, penale, amministrativo, contabile, disciplinare e solo per i dirigenti anche quella dirigenziale queste responsabilità si cumulano tra di loro non sono alternative tra l'altro ci sono diverse pronunce siccome gli avvocati fanno il loro lavoro e cercano di inseppare il precedente grande Stevens da cui sono stati folgorati in qualsiasi contenzioso anche a casa la magistratura ha detto più volte come direbbe Di Pietro che questo principio non ci azzecca assolutamente nulla nei rapporti tra azione disciplinare azione civile, azione contabile azione penale cioè se timbri il badge e te ne vai a osti a mare ti becchi una condanna penale una condanna della Corte dei Conti e vieni pure licenziato se prendi mazzette oltre alla condanna penale vieni licenziato ti becchi la condanna della Corte dei Conti e forse c'è anche un'azione civile per danni da parte della ditta che è stata illecitamente esclusa quindi queste quattro responsabilità si cumulano tra di loro ora queste responsabilità a proposito di prescrizione in Italia purtroppo non è che funzionino così bene la responsabilità penale la galera tra prescrizioni amnistie indurti condoni patteggiamenti sospensioni condizionali della pena riti premiali carcerari malattie provvidenziali che colgono taluni avallate da qualche medico eccetera insomma per finire nelle patrie galere è diventato molto difficile la pena penale ha perso quella finalità preventiva dissuasiva che abbiamo studiato su Antolisei su Pannain insomma mia farla veramente molto grossa per finire nelle galere la stessa responsabilità civile famme causa si dice qui a Roma ti faccio causa primo grado secondo grado terzo grado cassazione annulla corrimbio esecuzione opposizione all'esecuzione reclamo sull'opposizione se tutto va bene una quindicina d'anni e si recupererà la somma la stessa Corte dei Conti la terza reazione del nostro ordinamento funziona bene come tempistica la nostra modestamente è la magistratura più rapida d'Italia da noi il giudizio è molto rapido e anche l'appello ha dei tempi dignitosi come dovrebbero essere tutti i giudizi il nostro problema è quello del recupero concreto adesso è stagione di inaugurazione degli anni giudiziari no? ecco sentirete i nostri procuratori i nostri presidenti che si lamenteranno del recupero molto minimale di solito si parla del 10% delle condanne della Corte perché? perché ci sono dei limiti normativi non si può aggredire più del quinto dello stipendio del povero pubblico dipendente chi ha qualche casa qualche terreno se la vende e poi valla a fare l'azione revocatoria o di simulazione la cui probazio è notoriamente diabolica per cui condannato dalla Corte dei Conti rapidamente si recupera il 10% e allora se tutto questo è il quadro che purtroppo in Italia si prospetta l'azione disciplinare potrebbe essere lo strumento in astratto migliore perché è uno strumento innanzitutto rapido e anche molto efficace lo strumento disciplinare si attiva e si chiude in 120 giorni non in 120 mesi o anni 120 giorni e si chiude con una sanzione molto più efficace di una condanna penale che non verrà mai scontata o di una condanna civile o giù scontabile che troverà in capiente il debitore si viene licenziati cioè si viene mandati a casa allora se questo è lo strumento migliore che tra l'altro fa capo proprio all'amministrazione io lo definirei una sorta di anticorpo che ha l'amministrazione per combattere al proprio interno fenomeni di malaffare e questo guardate non riguarda solo l'impiego pubblico il sistema disciplinare esiste richiamando le categorie del santi romano sulla pluralità degli ordinamenti in tutti i micro ordinamenti esiste nell'impiego privato esiste nelle libere professioni esiste per i professori universitari esiste per i magistrati per i notai per gli architetti per gli ingegneri persino per gli ecclesiastici ecco ne parlavamo questa poc'anzi con Don Francesco Pesce anche il sistema della Chiesa nel diritto canonico prevede un regime disciplinare che va dalle pene medicinali fino alla destituzione il Santo Padre ha dato come abbiamo letto sui giornali un segnale molto forte sul piano disciplinare negli ultimi anni quindi ogni micro ordinamento è proprio l'essere umano che ha dei limiti ha però l'anticorpo interno e il sistema disciplinare allora come funziona nella pubblica amministrazione i referti a cui ho fatto poc'anzi riferimento negli anni 90 scritti dalla Corte dei Conti hanno descritto un quadro allarmante di stasi di buonismo di menefreghismo in qualche caso cioè azioni disciplinari non attivate nemmeno dopo giudicati penali di condanna per reati contro l'APA abbiamo pessimo funzionamento all'epoca dei collegi arbitrali di disciplina l'alternativa al giudice del lavoro e soprattutto molti errori tecnici che sono venuti al pettine della Cassazione perché vedete uno può avere il migliore la migliore avvocatura dello Stato del mondo avere dieci avvocati dello Stato che ti difendono ma se tu hai sforato dei termini perentori non c'è avvocato che binca quella causa l'hai persa e ti rientra in servizio un tangentista ti rientra in servizio un maestro pedofilo che stupra bambini ti rientra in servizio un infermiere che violenta persone sotto anestetico questi non sono casi di fantasiosi sono casi tratti dalla giurisprudenza fotografati proprio dalla nostra Corte dei Conti nei tragici referti reperti al Parlamento degli anni 90 su queste cause di malfunzionamento della macchina disciplinare ovvero dirigenza buonista e tollerante con le dovute eccezioni perché non bisogna mai fare ad ogni erba un fascio ci sono dirigenti che fanno il loro dovere e lavorano anche in degradate realtà lo dico da meridionale del sud Italia dove fare un procedimento disciplinare significa subire rappresaglie di vario tipo ecco i veri eroi sono quelli quelli che lavorano in questo tipo di realtà ecco però dicevo il primo problema un po' di dirigenza buonista fotografato dalla Corte il secondo problema i collegi arbitrali un po' perdonisti e il terzo problema gli errori tecnici commessi dai titolari dell'azione disciplinare sono stati attenzionati non c'è ministro della funzione pubblica che non abbia cercato di migliorare la macchina disciplinare in verità spesso con interventi di tipo nazional popolare cioè inferire sul furbetto del cartellino una modifica da 30 a 40 giorni non sono queste le soluzioni al problema che è un problema di degrado etico e qui torniamo ai concorsi che reclutano persone spesso che non hanno un senso etico perché sono entrate in un certo modo chi il posto se lo guadagna col sudore della propria fronte senza dover dire grazie a nessuno è un po' più difficile che diventi un timbratore seriale di badge che va ostia che falsifica che chiede la 104 per parenti che non vede mai che finge malattie inesistenti ecco allora su queste cause di cattivo funzionamento della macchina disciplinare è intervenuto più di qualche ministro la riforma Brunetta la riforma Madia ne avete sentito parlare le applicate chi di voi fa l'avvocato il magistrato con una certa frequenza e queste vicende vengono anche al pettine della Cassazione perché perché in Italia anche un richiamo verbale te lo portano in Cassazione gli avvocati addirittura le sezioni unite perché per loro si va in sezioni unite che sono ingolfate di richiami verbali ad avvocati perché è stata l'esa maesta no allora si va in sezioni unite ecco perché poi i tribunali sono ingolfati sono ingolfati di questioni spesso vili modeste che però per principio vengono portati fino in Cassazione su queste questioni è intervenuto il legislatore su questi problemi della macchina disciplinare e quindi onore e merito anche al nostro legislatore su alcune cause è intervenuto ad esempio il buonismo della dirigenza è stato combattuto ribadendo l'obbligatorietà dell'azione disciplinare a differenza dell'impiego privato altra differenza tra pubblico e privato nel privato è notoriamente facoltativa l'azione disciplinare nel pubblico no e quindi i lavoristi si devono rassegnare a questa conclusione legislativa invece di continuare a difenderla anche a livello dogmatico questa facoltatività smentita per tabulas dal legislatore che prevede sanzioni disciplinari per i dirigenti inerti a contrario disumiamo che l'azione disciplinare è obbligatoria il secondo problema ovvero collegi arbitrali un po' buonisti perdonisti è stato risolto da Brunetta eliminando i collegi arbitrali oggi si va solo e soltanto dal giudice del lavoro sulla terza causa ovvero gli errori tecnici commessi dagli UPD uffici procedimenti disciplinari e qui il legislatore nulla può fare non è che uno fa una legge diventiamo tutti intelligenti preparati competenti l'unico sistema per non sbagliare qual è studiare 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 venire a seguire i corsi che la SNA organizza ormai da diversi anni sulla gestione dei procedimenti disciplinari tra l'altro Stefano sarebbe molto interessante vedere se c'è stata una deflazione del contenzioso o un incremento del tasso di vittoria dell'EPA dopo i nostri corsi ecco l'attività formativa questo serve non sorbirsi lezioni del trombone di turno che disquisisce sui sommi sistemi ma dare delle nozioni poi spendibili sul campo per deflazionare il contenzioso per vincere le cause perché spesso si hanno come avversari dei stimabili avvocati lavoristi che hanno mestiere alle spalle mentre avete di fronte dei funzionari dell'amministrazione che di diritto del lavoro sanno pochino e allora la SNA serve a questo a formare i dirigenti i funzionari anche in materia disciplinare i libri che noi abbiamo oggi presentato vedete non sono libri teorici il libro deve essere utile il libro per essere comprato e utilizzato deve essere un libro utile e per utile intendo un libro che prospetta soluzioni ragionevoli spendibili in giudizio corredate da supporti giurisprudenziali più che dottrinali perché non me ne vorranno gli accademici presenti però tra una tesi sostenuta in dottrina e vent'anni di cassazione in senso contrario ovviamente chi imposta una linea difensiva si tara sulla giurisprudenza a meno che non ci siano delle innovative letture e allora anche questo è il compito della dottrina per chiudere su questo problema della macchina disciplinare le novità normative hanno toccato per migliorare il sistema disciplinare un primo principio che è stato introdotto ve l'ho detto è quello della obbligatorietà dell'azione disciplinare un altro punto su cui sovente i nostri legislatori che si sono alternati nel tempo hanno speso delle parole è la tempestività dell'azione disciplinare a cui ha già fatto riferimento il presidente di Cerbo perché ci sono molti contenziosi che riguardano i termini perché dovete sapere che quando si dà una sanzione disciplinare i fatti storici sono certi c'è poco da discutere l'unico sistema per scappottarsela è trovare vizi formali il vizio principe per eccellenza è lo sforamento dei termini e qui purtroppo essendo molti termini perentori se si sgarra di un solo giorno non c'è giudice in Italia che non te l'annulli la sanzione il lavoro meritorio che ha fatto però la Cassazione e quindi ribadisco l'importanza degli interventi nomofilattici dell'ultimo quinquennio della nostra sezione lavoro è stato quello di individuare il DS a quo il DS ad quem che sembrano cose così un po' speciose ma su questo si vince o si perde una causa conoscenza significa conoscenza piena non conoscenza generica conoscenza in capo all'UPD non da parte di un'articolazione centrale o periferica dell'ente nei 30 giorni devi fare la contestazione che vuol dire che gliela devi notificare questo l'ha chiarito la Cassazione atto recettizio va chiuso nei 120 giorni che significa che entro il 120simo giorno devi adottare non notificare la sanzione ora questi chiarimenti ermeneutici della Cassazione hanno avuto una formidabile finalità deflattiva perché oggi se si conoscono questa se si conosce questa giurisprudenza e la si deve conoscere per chi fa UPD chi fa procedimenti disciplinari poi le cause si vincono si evitano molti errori da qui ecco l'importanza della formazione la formazione non significa farsi una chiacchierata o una gitarella a Roma o a Caserta per guardare il palazzo significa acquisire poi delle nozioni spendibili sul campo e significa vincere i contenziosi che costano un sacco di soldi guardate farsi annullare una sanzione disciplinare qui tornano i referti della nostra Corte dei Conti significa far rientrare dei cialtroni a cui va fatta poi la restituzione in integrum cioè la differenza tra segno alimentare e retribuzione piena e se sei stato anche 15 anni un tempo c'era la pregiudiziale penale che Brunetta opportunamente ha eliminato significava che per 15 anni stai in sospensione cautelare poi il giudice te l'annulla perché hai fatto cappellate durante il procedimento ti rientra il cialtrone gli si ricostruisce la carriera anche ai fini pensionistici abbiamo avuto dei contenziosi anche in Corte dei Conti per il ricomputo pensionistico cioè gente che prendeva le mazzette è stata reintegrata gli è stata ricostruita la carriera e anche ai fini pensionistici allora l'attività di formazione a questo serve a evitare contenziosi e esborsi legati a quei contenziosi un'ultima cosa vi dico e vi lascio un problema sovente affrontato nei regimi disciplinari anche con gli amici avvocati avendo fatto alcuni corsi per il loro sistema disciplinare che ho studiato proprio in un volume che Antonino ben conosce si parla molto spesso della tipicità degli illeciti la tipizzazione degli illeciti ora chiariamo una cosa di fondo il principio di tipizzazione è un principio tipico del diritto penale dove tra l'altro è anche lì tendenziale perché ci sono anche delle clausole aperte nel diritto penale ci sono concetti come ordine pubblico buon costume che si prestano a valutazioni di più ampio respiro c'è l'abuso d'ufficio che sono reati un po' così volatili ma qui non siamo nel penale siamo nel disciplinare e quindi a maggior ragione a maggior ragione non c'è un principio di tipizzazione assoluta anzi benvengano le clausole aperte contrariamente a quello che sostiene qualcuno perché le clausole più aperte nel regime disciplinare consentono un miglior adattamento all'evoluzione dei tempi del sentire sociale dei costumi e anche alla fantasia italica che è straordinariamente ampia nel delinquere allora delle ipotesi troppo tipizzate troppo tassative non consentono di punire forme delinquenziali nuove ad esempio anzi ne abbiamo parlato con Stefano più volte dovremmo anche fare un corso su questo l'utilizzo degli strumenti social che può essere oltre occasione di commissione di reati se tu ingiuri oltraggi il prossimo può essere uno strumento denigratorio nei confronti del datore di lavoro di colleghi bisogna stare molto attenti e qui torniamo alla differenza tra dipendente pubblico e dipendente privato un dipendente pubblico deve stare molto attento a quello che che posta che scrive noi abbiamo avuto casi di poliziotti che si sono abbandonati a commenti a filmati ecco anche il caso recente avete letto il povero Cercello Rega questo maresciallo che è stato ucciso da due delinquenti perché così vanno definiti uno di questi un americano è stato fotografato in una caserma con una benda sugli occhi il problema mediatico è diventato non hanno ucciso il maresciallo delinquenti ma la fotografia di questo assassino fotografato che è diventata virale adesso passerà un guaio quello che l'ha fotografato perché magari lui aveva fatto questa fotografia semplicemente per comunicare a dei colleghi l'abbiamo preso l'abbiamo preso pensate si stava a parlare a scherzare assieme con questo collega mezz'ora dopo ti dicono che è morto si arresta chi gli ha sparato anzi chi l'ha coltellato lo si porta in caserma gli si bende agli occhi con la sciarpa che aveva agli occhi si manda una fotografia per dire ai colleghi lo abbiamo arrestato questi colleghi a loro volta lo mandano ad altre dieci persone quelle dieci ad altre dieci finisce nelle mani di un giornalista che pensando di diventare il un di vincere il Pulitzer pubblica sta fotografia adesso passa un guaio chi ha fatto quella fotografia allora vi ho fatto questo esempio banale e quasi tragico per dire bisogna stare molto attenti a come ci si esprime attraverso gli strumenti telematici proprio sul penultimo numero della rivista della Corte dei Conti ho dedicato uno studio a questo a questo tema ecco questo può essere punito attraverso quella tipizzazione più soft che connota il sistema disciplinare del pubblico impiego tante altre cose avrei da dirvi ma data l'ora mi fermo mi fermo qui tengo però a dire una cosa che riguarda il nostro volume scritto con Maria Gentile e Luca Busico questo volume nasce anche nelle aule di questa scuola e questo lo voglio dire a Stefano che rappresenta la nostra SNA un volume come questo avete detto tutti è grosso è grosso perché c'è tanta roba e soprattutto in questo volume ci sono vent'anni di vita di vita non solo giudiziaria ma vita didattica e soprattutto di dialogo con la gente perché guardate nessuna speculazione teorica fatta a tavolino può portare ad un volume come questo se non ci si è confrontati in vent'anni di vita anche didattica giudiziaria perché non è vietato parlare con avvocati con professori ma soprattutto con dirigenti che seguono corsi e queste persone non sono studenti universitari che annuiscono bovinamente tanto tu sei il professore puoi dire quello che vuoi questa è gente che fa procedimenti disciplinari e cura contenzioso del lavoro anche lei è da vent'anni e quindi questo libro lo avete scritto anche voi ecco questo volevo dirvi perché nessuna speculazione mi avrebbe consentito di realizzare un volume come questo se non mi fossi confrontato con tanti tanti funzionari e dirigenti in queste aule vi ringrazio e vi auguro buona serata grazie a tutti